Priviet a tutti ragazzi e benvenuti qui incredibilissimi in questo nuovissimo video Oggi un altro video su Paladins Ma prima di cominciare volevo salutare un ragazzo che ho incontrato durante una live E che praticamente senza chiedere iscritto ricambio Guarda, guarda qui il mio canale o guarda qua Si è iscritto senza, senza così, senza chiedere niente in cambio E questa è una cosa che non tutti i giorni capita di incontrare persone così Non lo conosco di persona ma comunque volevo salutarlo visto che me l'ha chiesto Voglio salutare Davide Fallico Ciao Davide, grazie mille per il supporto Oggi andremo a fare Bunking Andremo a giocare Bunking Però io ve lo dico, io con Bunking devo ancora imparare tante cose Per esempio devo migliorare un po' la mira, devo far meglio il knockback Comunque è uno dei miei personaggi preferiti Con cui mi ci diverto di più Comunque senza perdere altro tempo andiamo subito alla partita Let's go Allora io la vedo più o meno male questa partita Perché ci abbiamo due flanker e due damage Compresi me e un healer Vabbè loro non è che sono messi meglio C'hanno solo un tank Al posto di un damage Di un altro damage E praticamente la loro sky è ametista Cioè c'ha il bordino ametista che vuol dire che O ci ha nerdato tanto e non è tanto bravo Oppure è tanto bravo Perché c'ha il bordino ametista Vabbè O la va o la spacca La direga La direga Affanculo sky di merda Però regà Dovete stare sul punto Dovete stare sul punto Porca buttana Affanculo Dai regà Dai regà Stamattina Stamattina Mamma mia No tu non scappi amico mio bello Tu non scappi No adesso qui Adesso ne dobbiamo parlare Io me volevo un attimo salvà Ma porca buttana Ho fatto una figura de merda Porca buttana però Non stanno vicini al carico Porca la manna Non mi fa parlà Non mi fa parlà Allora illuminate Me compro Poi life rip E moral boost Regà dai Ci stiamo Ci mancava più o meno bene Con bombkin Dai 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 Sempre scusate il silenzio Ma in sto gioco C'è vuole concentration Chi è Affanculo E Volevi Oh 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 Ma quadruplina così Quadruplina così Ma volevo mettere la quadruplina così Dai No dai Il coso di merda Regà sul punto Sul punto C'è manca il 9 Il coso per cento Il 9% Regà il 9% E se il 9% Un un per cento Un per cento Dai regà Dai che stai Stai sto con culo di vita Sul punto Regà sul punto Sul punto Sul punto Sul punto Sul punto Sul punto Prima Dai regà Perché non volete capire Dove sta sul punto Fa fanculo Ma regà Ma che bordello sto a fare con coso Regà l'ultimo push State vicino al Dai Regà Uff Dai Uff No Cazzo però Eh vabbè regà Vabbè Però Io ve lo dico Questi non stanno vicino al carico Non ce stanno Preferisco andare a fare la kill Tanto mi compro Illuminate Wrecker E life rip Mamma mia regà Potenziamenti così Mai avevo fatti così tanti potenziamenti Dai regà Date al vostro re Un grosso abbraccio No Zin No Zin Dai Dagli regà Dagli regà Dagli regà E dove cazzo Non ci ho capito niente Non ci ho capito Cioè praticamente Oh Finalmente hanno capito Che dovevano sta sul punto Porca buttana C'è 30 15 30 15 E io le dicevo Dovevo migliorare la mira Su bombking No sto scherzando Alcuna volta C'ho proprio una mira De merda Vabbè comunque signori Grande partita con bombking Quindi Se vi è piaciuto il video Pollice in su Commentate Condividete Al prossimo video Con il vostro Yuri Maverick Da svidania Alla prossimo video Grazie a tutti.